Ecco quello che dice Gesù a Shelly e Anna. Che belle parole! Gesù mi prende per mano e mi dice. Non vi ho dato uno spirito di paura. Non temete. Sono andato a prepararvi un posto. Tornerò come Salvatore misericordioso e vi prenderò con me. Non temete. Vi porterò in braccio quando cadrete. Non temete. La mia luce risplende nelle tenebre. Non temete la tempesta che infuria. Io ordino ai venti di fermarsi. Ho illuminato la strada. Non disperate. Rimanete sul mio cammino. Raccogliendo le anime perdute lungo la strada. Così dice il Signore. Gaino. Ciao. Grazie a tutti